Fare questo film su Cana è stata un'esperienza molto bella, a parte fare il film, anche per me c'è un personale perché ho anche percepito, soprattutto dagli abitanti dell'isola, che sono lì in pochi, che devono convivere con le forze della natura, anche se hanno, ovviamente, tecnologia moderna, tutte le cose del mondo moderno, diciamo. Però allo stesso tempo si sentono molto di più le forze della natura, il vento, le tempeste, si sentono spesso molto più soli perché sono infatti su un'isola che è molto difficile da raggiungere e così hanno un altro rapporto proprio con la natura, con quel paesaggio e col posto dove vivono e questo si sente anche essendo lì. Grazie Grazie